Il suo amversario Il suo amversario Il suo amversario Il suo amversario Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 E' la quarta ripresa. Grazie. 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 E' la quinta ripresa. Grazie. 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 E' la sesta ripresa. Grazie. 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 E' la settima ripresa. Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.